Il peggior attacco della Serie A, un punto in otto partite, ultima vittoria al San Nicola datata 26 settembre 2010, è una classifica sempre più inguardabile che dopo la sconfitta di Roma parla di ben 11 lunghezze di ritardo dalla zona salvezza. Praticamente un disastro e numeri che, pur con tutto l'entusiasmo del mondo, difficilmente possono far sperare nel miracolo tanto atteso. Nel calcio nulla è scontato, è vero, ma quando l'encefalogramma è piatto e quello del Bari lo è, la retrocessione sembra l'unica certezza in una stagione da dimenticare in fretta. La squadra non vince, non segna, la cura Mutti non ha dato la scorsa sperata e l'impressione è che le ultime gare che restano, più che una fiammella accesa alla speranza, siano un'inutile appendice da esaurire in fretta. A pochi giorni, dal match casalingo contro la Fiorentina, la voglia di parlare è poca, ma per Simone Bentivoglio, arrivato a gennaio per dare una mano ai Biancorossi, la cosa più importante è andare avanti da uomini. Basta vedere la classifica, per questo noi dobbiamo pensare a essere uomini, impegnarci senza guardare classifica o qualsiasi altra cosa, anche perché sappiamo tutti com'è la situazione, quindi penso che la cosa più importante sia uscire da uomini, perché nella vita come nel calcio ci possono essere situazioni molto difficili, però uno in una situazione di difficoltà deve reagire sempre comunque da uomo.